Ciao a tutti, nuovo video di Chiara, l'avevamo data per dispersa, invece no, è tornata veramente alla grande, con un video dal titolo Siamo usciti di notte e anteprima, prima parte, regalo di mio marito, vlog 11.1.2023. Devo dire che quello che risparmia Davide, il tempo che risparmia Davide nei titoli, perché mette solo dei puntini, a volte solo dei punti esclamativi, se lo prende tutto Chiara, per i suoi titoli appunto. E comunque è in macchina, la vediamo incappucciata, sia con la felpa delle super chicche, che con il cappuccio del giubbino, ci informa che sono le 12.27, ci fa vedere che insomma è anche scuro, quindi è notte, e dice che siccome il marito gli ha fatto un regalo misterioso, fra virgolette, ma che lei ovviamente sa, loro stanno andando a ritirarlo, perlomeno la parte che già possono prendere, perché poi ci sarà un'altra parte che verrà recapitata a casa. E quindi destinazione Locker di Corsico, lei dice che è molto contenta, che è come un vlog vagabondo, e poi come se la Luciana si fosse impossessata di lei, comincia a cantare Io vagabondo. Fortunatamente non c'è bisogno di un esorcista, perché smette praticamente quasi subito, e dice che le sembra di andare in viaggio a quell'ora, a partire quindi per un viaggio. Lo chiede anche a Davide, che molto entusiasticamente, devo dire, con come chi è stato scartavetrato a forza dal divano, dice sì. Poi Chiara ci fa sapere che sono usciti in pigiama, tanto chi ci deve vedere, insomma, questo è il mantra. Comunque penso che le raccomandazioni della serie Cambiati le mutande, che non si sa mai cosa può accadere, la mamma non gliele abbia mai fatte. Dice che comunque non è come quando escono spuderatamente in pigiama di giorno, anche se lo rifaranno, perché la cosa a quanto pare le piace. Ci informa anche che riciclerà dei vecchi format per i nuovi video, che sta quasi per mettere in funzione quella favolosa macchina cinepresa, macchina da presa, videocamera, chiamiamolo un po' come ci pare, insomma, che si è autoregalata per Natale. Ci mostra l'orario sul cellulare del marito, perché sa che siamo, insomma, delle persone malfidate, e nel cellulare del marito, in effetti, sono le 12 e 30, le 24 e 30, praticamente, o le 00.30, come si vuol dire. Finalmente sono arrivati all'IKEA, sono nel parcheggio, soli praticamente, metti anche un po' di... non di ansia, però, insomma, se questo fosse un film dell'orrore, ad un certo punto sarebbe apparselo psicopatico con l'ascia. Ma siccome è un video trash, ci sono solo loro due, che praticamente stanno lì per ritirare queste cose, lei riprende un po' il parcheggio per far vedere che effettivamente ci sono solo loro due, parla ad altavoce per coprire la musica che comunque, anche se è notte, va tranquillamente per il parcheggio, e a un certo punto inquadra un figo. Chi sarà mai? Brad Pitt? Sembra e non sembra. Il Principerry? Forse sì, forse no. E no, invece si scopre poi che è Davide, che ha praticamente, anche come lei, praticamente vestito in pigiama, scarpe da tennis rosse, bianche e nere. Un pigiama mi sembra un verdone con Tom e Jerry. Da una parte questo pantalone gli è anche un po' salito sulla caviglia e quindi sembra un po' un zompafossi, come si suol dire, della serie che ti si è allagata la casa. Comunque è un giaccone blu, nero, credo. A un certo punto aprono finalmente questo scrigno pieno delle gioie di Chiara. Non serve un alo mora, basta semplicemente il codice. E viene fuori qualcosa che Chiara definisce una meraviglia. Noi invece possiamo vedere soltanto degli scatoloni che al loro interno probabilmente celano dei pezzi di mobili che poi andranno assemblati. Sarà una libreria? Secondo me sì, anche perché l'ho visto, quindi vi faccio anche questo spoiler. Comunque, lei chiede al figo se sono belle le avventure notturne. E lui, molto convinto, mentre sta scaricando questi pezzi di libreria che non devono essere neanche tanto leggeri, dice che sì, è bellissimo questa avventura, soprattutto se devi scaricare dei mobili. E io sono assolutamente d'accordo con lui. Anche perché Chiara pare non aiutarlo per niente, perché sta lì con la telecamera a riprendere il tutto, mentre Davide si deve incollare questi arnesi, diciamo, questo materiale che a parte essere pesante però è anche abbastanza lungo, quindi una mano insomma gliela avrebbe anche potuta dare. Comunque, dice che andranno all'autogrill. Lei nel frattempo ci fa vedere il suo outfit, che non è altro il pigiama delle super chicche, che lei dice che è caldissimo, favoloso, bellerrimo e quant'altro. Qui all'autogrill, al parcheggio dell'autogrill, si riprendono insieme, si baciano. Lei gli dice che è bellissimo. Giustamente, insomma, voglio dire, erano 30 minuti che non glielo diceva. Si danno il bacio di rito. Lei lo ringrazia, perché, insomma, lui è andato a prenderle queste cose. Si baciano di nuovo e poi dimmi cipi cipi, no, dimmelo tu cipi cipi e fammi cipi cipi. No, quella è un'altra storia, lasciamo perdere. Comunque, nel bel mezzo di tutto questo romanticume, a un certo punto Davide le dice, dai che voglio andare a giocare alla Play. Lei dice che vuole giocarci anche lei, che ha cominciato a giocare a Resident Evil e le piace tantissimo e quindi, insomma, si fanno questa foto, una foto per la copertina del video, almeno del vlog, almeno così dicono, ed entrano nell'autogrill. Qui lei comincia a riprendere un po' i prodotti, i prodotti esposti. Prima di tutto il caffè, perché pare che ci sia un'offerta, anche se a me è tanta offerta, non mi sembra. Comunque, poi riprende i dolciumi, gli snack, le bibite, i succhi e poi si sofferma su dei giochini, su dei pupazzetti, praticamente, che sembrano delle simile Funko Pop, a 9,99€. Le prenderà? Non le prenderà? Ha desistito, almeno così sembra. La ritroviamo il giorno dopo in camera da letto, con un ognomo color oro che campeggia sulla Bajour, e lì ho pensato, ah, se questo ognomo potesse parlare, cioè quante ne racconterebbe? Comunque, Davide sta montando quello che ha preso, quello che hanno ritirato, che lei dice che è una cosa bellissima, manco a dirlo, insomma, dice che è tutta una cosa fatta bene, pensata, ci dice che poi ce la farà vedere nel dettaglio, perché ci sono appunto dei dettagli che vanno a richiamare il resto del mobilio della stanza. Nuova inquadratura, sempre in camera da letto, lei sempre seduta, appunto sul letto, e notiamo che nella stanza ci sono tante tante cose, forse troppe. In una camera da letto tutte quelle cose sinceramente non andrebbero tenute, un po' per la polvere che comunque può dare fastidio alla respirazione e molto anche per una questione, diciamo, di praticità. Comunque, ci sono tutte queste cose, lei dice che Davide ha finito di montare e che sta mettendo i pomelli a forma di diamante e ci informa che nello spostare la scrivania che c'era prima, perché questa cosa che Davide le ha regalato praticamente è una scrivania con una libreria a fianco e spostando la scrivania praticamente sotto la finestra è venuta fuori un po' di muffa che loro comunque provvederanno a sanare. Dice praticamente che è contentissima perché lei, la scrivania che aveva prima, lei non piaceva per nulla, che comunque una volta tolta dalla camera la metteranno in cucina temporaneamente. Io credo veramente per la gioia di Luciana che si ritrova tutta questa roba insomma in casa che sinceramente dopo un po' manca l'aria, ma comunque vedremo un attimino come cercherà di sistemare il tutto. E siccome praticamente lei ha cambiato le maniglie di questa libreria perché ci sono dei cassetti e ha messo quelli al diamante, a forma di diamante, si ritrova con due buchi praticamente vicino a questa maniglia. Ecco, e lei dice che ci vuole mettere dello stucco per coprire questi buchi. Secondo me anche se ci mette lo stucco, se non è scartavetrato bene lo stucco, se non è messo bene, se poi non è ridipinto e quant'altro, comunque si vede. A questo punto io le consiglierei mettici un'altra e due manopole a, come si dice, a diamante come quello che già ha e secondo me risolve in quella maniera. Quando lei ha inquadrato la muffa sotto la finestra per farci vedere appunto la situazione che effettivamente non è neanche così grave, insomma, notiamo che da quella parte della stanza ci sono altre cose, ci sono altre scatole impilate delle Funko Pop, c'è la famosa bambolina Ellison e ci sono altre cose per terra. Insomma, a me dispiace dirlo, ma quella camera veramente è chiara, è troppo 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 piena e tu continui a comprare roba, cioè per la tua salute, ecco, non per altro, per la tua salute. Io so che anche per il benessere proprio anche della testa, della mente, di quant'altro, in una camera da letto ci dovrebbero essere pochissime cose, anzi c'è gente che in camera da letto non ci mette neanche le, non porta neanche i cellulari e quant'altro, proprio per un modo di distendersi completamente mentre si dorme. Invece lì con tutta quella roba, secondo me, cioè come non vi viene il panico, la sera, la mancanza d'aria, proprio la sensazione di sprofondare, la sensazione di venire sommersi da questa roba, io sinceramente non lo so. Comunque, contenti voi, contenti tutti. Ci fa ancora partecipi della sua gioia, soprattutto perché? Perché con questa scrivania, che io credo sia più grande, comunque può contenere più cose, visto che ora ha anche l'armadio, lei può avere anche una postazione per quanto riguarda il make-up e dice che ci farà dei video. Quindi, ora abbiamo saputo perché finora lei non si è truccata, perché non aveva una postazione make-up. Bene, visto che siamo ai dotti anche su questa cosa, voglio dire, ci sentiamo un attimino più tranquilli, perché d'ora in poi sicuramente si truccherà. E niente, questo era tutto dal pianeta da Limberti. Io vi saluto, mi auguro che questo audio vi abbia intrattenuto. Se sì, lasciatemi un like, se volete iscrivetevi al canale e se volete sempre lasciatemi dei commenti. Ciao a tutti e buonanotte!